Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo! Oggi parliamo di Wonder Woman 1984... Stavamo dicendo Wonder Woman 1984. Devo fare una piccola premessa. Allora, da questo film, almeno noi nerdacci, questo è uno dei primi film, da cui capiamo quanto è importante tutta la campagna promozionale, tutto il marketing che ci sta dietro all'uscita di un film al cinema di come tutta questa campagna abbia una risonanza per il film stesso che prende quasi più importanza che se non uscisse in streaming direttamente. Wonder Woman è uno dei tantissimi film che doveva uscire nel 2020, ma purtroppo a causa della pandemia è stato rimandato, 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 rimandato. Anzi, se volete vedere la mia trailer reaction da lì vedrete che il film sarebbe dovuto uscire ad aprile, se non sbaglio, aprile o maggio, e ovviamente non è stato così. È uscito finalmente solo nelle sale americane il giorno di Natale, il 25 dicembre, ovviamente nelle sale italiane, per ovvie ragioni, non è potuto uscire, dovrebbe uscire il 26 gennaio nelle sale italiane, dico dovrebbe perché se la situazione continua così penso che ce lo vedremo direttamente a casa nostra. Però è successa una cosa molto particolare, la Warner Bros, oltre a farlo uscire al cinema nel giorno di Natale in America, lo ha fatto uscire anche su una piattaforma streaming americana che si chiama HBO Max, e proprio grazie a questo io sono riuscito a vederlo in anteprima, per così dire, per voi, ma soprattutto per Gal Gadot. Il film si colloca dopo il primo Wonder Woman del 2017, che era ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e prima di Batman v Superman Dawn of Justice, è ambientato nel presente. Questo film è ambientato nel 1984, negli anni 80. Da quello che abbiamo visto in Batman v Superman si suppone che in questo lasso di tempo, ovvero tra la Prima Guerra Mondiale e il 1984, Wonder Woman non si sia mostrata al pubblico e devo dire che da questo film, soprattutto da come inizia, sembra finalmente che si siano tenuti alla storia, alla continuity. Finalmente si cominciano a vedere un po' di film della DC Extended Universe senza grossi buchi di trama. Vediamo una Wonder Woman che agisce in incognito, sfrutta la sua agilità, la sua velocità per salvare comunque le persone di Washington, perché è ambientato a Washington, e come le salva corre via senza nemmeno farsi vedere o nel caso appunto di una grossa rapina in un centro commerciale, anzi in un grande magazzino, perché siamo nel 1984, dove Wonder Woman viene effettivamente vista al pubblico, si assicura comunque di distruggere le videocamere del grande magazzino in modo che non venga registrata la sua presenza e questo mi ha fatto molto piacere vedere che è in continuity, che non hanno sbagliato a scrivere la sceneggiatura. Proprio per quello che ho detto all'inizio, questo film l'ho visto in lingua originale. Allora, Gal Gadot è sempre bellissima, ma non mi pare bravissima. Non mi sembra molto brava a recitare, soprattutto quando vuole essere seria, quando deve dire qualcosa di arrabbiato o di serio. Però ho finalmente capito perché hanno scelto lei come Wonder Woman. Nonostante sia un po' troppo mingerlina dal momento che Wonder Woman è un bel donnone, è una vera e propria mazzone, visibilmente più muscolosa di Gal Gadot. Gal Gadot riesce a trasmettere una cosa. Ragazzi, trovate qualcuno che vi guarda come Gal Gadot guarda qualunque cosa. Gal Gadot quando sorride ti trasmette pace, ti trasmette serenità, ti trasmette compassione. Non nel senso negativo del termine, ma nel senso che è la versione femminile di quello che rappresenta Superman. Lo sguardo di Superman nei fumetti è tra le cose più rassicuranti che ci siano. E qui hanno voluto proprio fare in modo di trovare la versione femminile, quantomeno a livello di popolarità, di Superman. Perché se Superman è il paladino senza macchie e senza paura dal punto di vista maschile, dal punto di vista femminile per quanto riguarda la popolarità c'è Wonder Woman. Poi lo so che esistono Supergirl, Powergirl, eccetera, eccetera. Ma come? Dal punto di vista dell'essere conosciuta a livello mondiale c'è Wonder Woman. Detto questo, l'espediente narrativo che vediamo in questo film è un pochino deboluccio. Fondamentalmente muove tutta la trama una pietra che esaudisce i desideri. Ora, premesso che io non sono un lettore di Wonder Woman, mi sono comunque informato, questa Dreamstone esiste anche nei fumetti, quindi non è campata per aria per far filare la trama. E stiamo comunque parlando di un universo dove convivono o convivranno, dato che è il 1984, alieni, kriptoniani, ma anche i parademoni di Darkseid. Ci saranno gli Atlantidei, ci sono tuttora nascosti gli Atlantidei. Ci sarà un giustiziere mascherato che si veste a pepistrello per combattere criminali molto colorati e molto pazzi. Ci sarà un meta-umano che correrà alla velocità del suono, al punto da viaggiare anche indietro nel tempo, quindi ci sta che ci sia un mondo così particolare. Però non avevamo mai visto la vera e propria magia nel DC Extended Universe. E quindi vederla subito, tra l'altro da un manufatto, quindi non da una persona che ha dei poteri, ma da un manufatto, fa storcere un po' il naso. Poi lo spiegano perché, ma comunque introdurre una cosa così forte in questo modo sa proprio di lazy writing, come dicono in Deadpool 2, di sceneggiatura deboluccia. Avrebbero per esempio potuto introdurre la magia grazie a personaggi come Zatanna o il Dr. Fato che potevano per esempio fare una comparsa, non dico in questo film, ma in generale in film del DC Extended Universe. Così dal nulla è un po' pesante da digerire. La sospensione dell'incredulità non è così facile appunto da sospendere. Si è un po' increduli di fronte a questa cosa. E grazie a questo manufatto che capiamo perché nel trailer abbiamo visto di nuovo Steve Trevor, ovvero l'amore perduto di Diana Prince durante la prima guerra mondiale. Abbiamo capito perché torna nel 1984. È semplicemente stato espresso questo desiderio da Diana stessa, da Wonder Woman stessa. E anche lì francamente si poteva vedere una Diana Prince che trascorsi 60 anni dalla prima guerra mondiale si fosse fatta comunque una vita e avesse desiderato qualcos'altro. Invece vediamo come dal 1915-1918, che dir si voglia al 1984, lei è rimasta fissa pensando al suo grande amore perduto in guerra, Steve Trevor, al punto da desiderare che ricomparisse. Quindi non è fantastico vederla interagire con lui anche perché non è più uno Steve Trevor con un suo esercito che guida in trincea dei soldati durante la prima guerra mondiale, ma è ridotto a mero cagnolino, a mero pappagallino di Diana Prince e va in giro insieme a lei a risolvere questo caso, ma sembra proprio di vedere Batman e Robin. Non è una cosa che dà molto onore al personaggio di Steve Trevor. Parlando invece dei cattivi di questo film, mi è piaciuto molto vedere Kristen Wiig in questo ruolo, perché è una delle poche attrici che sicuramente riesce a interpretare sia il ruolo che fa all'inizio, che interpreta all'inizio, appunto di persone impacciate, un po' sfigata, imbranata, quasi comica, proprio perché Kristen Wiig è un'attrice comica, viene da Saturday Night Live, ma è anche una bella donna, quindi riesce comunque a passare da questo ruolo macchietta caricaturato alla fan fatal fino a diventare un vero e proprio villain e sono davvero felice che abbiano dato questo ruolo a un'attrice comica, una cosa che non vedevo da tantissimo, forse dal Jim Carrey che ha fatto il ruolo dell'enigmista, sempre tra l'altro per la DC Comics nel 1995, in questo caso, dato che si tratta anche di una donna comica che deve interpretare alla fine dei conti un personaggio molto feroce alla fine del film, credo che sia stato merito del fatto che la regista stessa di questo film sia una donna, Patty Jenkins, credo che un uomo avrebbe scelto qualcos'altro, avrebbe scelto la gnoccolona da abbruttire all'inizio per far sbocciare alla fine, qua invece vediamo qualcosa di diverso, vediamo un'attrice che a tutti gli effetti sotto gli occhi di tutti è considerata una comica, non una bella donna, un'attrice che fa ridere e la vediamo esprimersi al meglio anche in una zona, fuori dalla sua zona di comfort diciamo, quindi non in un ruolo rilegato da comica ma in qualcos'altro e devo dire che ha fatto centro, è molto brava proprio perché l'ho visto in inglese recita meglio di Gal Gadot, comunque è molto più brava a recitare lei della protagonista, quindi ne sono stato molto felice, l'avevo anche vista oltre che in quell'orribile reboot dei Ghostbusters, non orribile per come hanno recitato le attrici ma proprio per la sceneggiatura orribile di quel reboot di Ghostbusters dove l'avevo scoperta, l'avevo anche vista in I sogni segreti di Walter Mitty, film con Ben Stiller dove lei è appunto la protagonista femminile, ve lo metto qua in descrizione se volete acquistarlo perché è davvero molto bello però penso che lo trovate anche su Prime o su Netflix, nel caso vi metto il link anche di questo dico che recita meglio della protagonista perché comunque recita con un accento americano, siamo a Washington, siamo in America, Gal Gadot ha questo suo accento forte iraniano che se poteva essere giustificato nel primo film perché comunque Wonder Woman è un'amazone, perché vive su un'isola probabilmente nel mar Mediterraneo, quindi potrebbe avere quel tipo di accento, dopo 60 anni che vivi isolata dal resto del mondo, dal resto del tuo mondo, dal resto delle amazzoni e vivi immersa nella cultura americana a Washington, il fatto che tu abbia ancora questo forte accento che influisce comunque sulla recitazione, spero proprio di vederlo in italiano e di godermelo un po' di più perché ci conto molto sui nostri doppiatori. Tornando appunto a Kristen Wiig che interpreta la cita, ovvero il ghepardo umano, una delle nemesi, se non la nemesi stessa di Wonder Woman, dicevo, mi è piaciuto molto come l'ha interpretata, molti si sono lamentati della CGI per il personaggio. Ora, sì, nel senso che se usi la CGI per quello che è fondamentalmente un grosso gatto umanoide, dopo quello che si è sentito sul film Cats, è normale che ti venga da pensare che sia orribile, però non è il più grave difetto di questo personaggio, quanto il fatto che si vede davvero poco, si vede solo nel terzo atto per una sfida corpo a corpo con la protagonista, con Wonder Woman, che però non dura tantissimo e soprattutto a me è dispiaciuto un sacco non vedere la trasformazione, cioè la vediamo da umana a gatto in pochissimo, senza vedere almeno un minimo di trasformazione, sarebbe stato molto eccitante vedere la trasformazione in questa bestia, avrebbe anche reso più credibile vedere Kristen Wiig nel ruolo di cita, invece così non è, non ci perdiamo il pezzo della trasformazione e appunto, come dicevo, dura molto poco. In questo film ci sono due nemici usati come nemico d'azione, cita, e nemico che trama nell'ombra, neanche tanto nell'ombra, diciamo, che è Max Lord. Max Lord che nei fumetti è un metaumano, ha un potere metaumano latente, riesce a, diciamo, controllare le persone, in questo caso Max Lord è legato a questa pietra, a questa Dreamstone, sfrutta la Dreamstone, che nei fumetti non c'entra con Max Lord, per diventare lui stesso qualcuno che esaudisce i desideri, ovviamente con un prezzo. Ciò nonostante non è un cattivo psicopatico, non è un Lex Luthor, un umano alla Lex Luthor che è uno psicopatico, è comunque un, anche lì, una persona sfigata, che si è sempre sentita un perdente, che trova una scappatoia, una scorciatoia, perché il film di questo parla, lo vediamo fin dall'inizio quando Diana da piccola prende una scorciatoia per vincere, quando vede la possibilità, una scorciatoia, per avere successo, la prende al volo, perché si è sentito sconfitto dalla vita e vuole prendersi la sua rivincita. Questo è comune a tutti i protagonisti del film, da Wonder Woman che però lo ha imparato da piccola, anche se qui la vediamo un attimino scivolare in una debolezza che è quella appunto di rivolere il suo grande amore, lo vediamo in Kristen Wiig, nell'attrice che poi diventerà Cheetah, nel personaggio che poi diventerà Cheetah, che si chiama Barbara, e lo vediamo anche in Max Lord. Tutti e tre fanno questo percorso di cercare una scorciatoia per la felicità, per la realizzazione, per il successo, per il potere. Un altro fattore che rende molto più umano Max Lord è il fatto che abbia un figlio che fondamentalmente ama, però appunto non gli dedica il giusto tempo, lui pensa di dover fare successo per poi una volta che si sarà sistemato occuparsi di lui e si sta perdendo appunto un bellissimo rapporto con il figlio che non riesce ad avere. E grazie a Wonder Woman questa causa, questo suo lato umano, verrà appunto poi ritrovato nel terzo atto, nel finale del film. Come dicevo, la pietra, non l'ho detto all'inizio appunto perché sto facendo gradualmente spoiler, la pietra è appunto un manufatto creato da una divinità. Abbiamo già visto in Wonder Woman 1 che le divinità esistono, c'era Marte, in questo caso la divinità non si vede fisicamente, ma sappiamo che è Dolos, che è il dio greco dell'inganno, delle malefatte, fondamentalmente una versione greca di Loki. Se per caso sapete qualcosina, avete letto qualcosina a scuola o per passione vostra di mitologia norrena e di mitologia greca, sapete che ci sono delle somiglianze tra le divinità. Quindi questa è una versione greca di Loki fondamentalmente, è subito venuto alla mente come Loki in un altro film abbia creato un manufatto con i suoi poteri. Non è ovviamente un film della Marvel, ma mi riferisco a The Mask. La maschera magica pare nel film, non nei fumetti di The Mask, che sia stata, che rappresente appunto il potere imprigionato di Loki, il dio delle malefatte. Qui più o meno c'è la stessa cosa. Dolos mette in questa pietra i suoi poteri per esaudirne i desideri, ma dato che è il dio delle malefatte, questi desideri appunto hanno un prezzo. Quindi se per caso questo dio che crea un manufatto per fare delle cose magiche vi ricorda qualcosa, lo avete già visto in The Mask. Il discorso finale che fa Gal Gadot, anche se può sembrare un po' stucchevole, perché in un film di supereroi è un pochino stucchevole, è molto bello se ascoltato attentamente, specie se lo collochiamo nella nostra situazione attuale, dove c'è un individualismo imperante, un individualismo che nemmeno una pandemia è riuscito a scongiurare. In questo momento in cui dovremmo essere uniti più che mai per battere il virus, c'è ancora gente che pensa solo a se stessa, che pensa solo a fregarsene appunto delle regole, giuste o ingiuste che siano, non voglio entrare nel merito, perché appunto vuole pensare a se stessa, alla propria felicità, alla propria famiglia, al proprio piccolo mondo, non pensando che le proprie azioni possano influire sulla maggioranza della popolazione. Questo film, questo discorso finale, ci fa capire che se ognuno pensa per sé, ognuno esprime i propri desideri pensando per sé, e non pensando a tutti gli altri, pensando di essere stato più bistrattato rispetto agli altri, e quindi se ognuno pensa di prendersi la propria rivincita verso il mondo perché si sente maltrattato, non se ne esce più. Tutti siamo stati maltrattati, bisogna comunque essere migliore, diventare una persona migliore. E questo è il messaggio fondamentale del film. C'è anche una piccola metafora femminista, giusto nel finale, non tantissimo, in cui Max Lord rappresenta proprio il classico riccone che ti può esaudire un desiderio con un piccolo prezzo. E Wonder Woman è colei che non accetta questo prezzo, non accetta questo compromesso, vuole arrivare dove vuole arrivare senza compromessi, ma solo con la verità. E questo è un bellissimo messaggio, soprattutto perché è stato dato un po' così sotto tono, cioè senza essere troppo pesante. E questa cosa mi è piaciuta molto. Ripeto, nonostante la recitazione di Gal Gadot, che appunto quando fa qualcosa di molto serio, come appunto il discorso finale in questo film, appare stucchevole. Però se passate sopra questo, il messaggio è molto bello. Appunto spero di vederlo in italiano per assorbire meglio questo messaggio. Finalmente, allora, parliamo dal punto di vista visivo, dal punto di vista quello che hanno preso direttamente dai fumetti. Finalmente vediamo molto di più di Wonder Woman, di quello che non abbiamo visto né nel primo film, né in Dawn of Justice, né in Justice League. Vediamo finalmente il jet invisibile e lo giustificano anche in modo quasi verosimile. Cioè Wonder Woman ha questo potere di con le mani rendere delle cose... Praticamente crea un campo di forza invisibile. Ha più o meno lo stesso potere di Sue Storm dei Fantastici Quattro. Non l'ha mai fatto con oggetti così grandi. Vediamo che riesce a rendere invisibile il jet. Il jet stesso è giustificato invece dalla presenza di Steve Trevor che è un pilota d'aerei, un pilota d'aerei della Prima Guerra Mondiale e quindi è bello vedere che rubano un aereo e che Wonder Woman lo rende invisibile, lo rende il jet invisibile. Vediamo un alto uso del lazzo della verità che si è visto pochissimo nel primo Wonder Woman, si è visto pochissimo, credo, in Dawn of Justice, si è visto un po' di più in Justice League, ma poca roba. Finalmente vediamo, un'altra cosa, finalmente vediamo Wonder Woman volare. Tra l'altro in un modo che ci fa anche capire perché non l'abbiamo vista volare prima, perché più che un potere di volo innato come quello di Superman, è un potere di saltare altissimo, saltare, usare il lazzo per arrivare in vetta, in vette molto alte, per poi planare, per poi capire come gestire le correnti, l'aria, cosa che appunto gli ha insegnato Steve Trevor con l'aereo, e per poi appunto librarsi nel cielo e volare come fa un uccello, come fa un volatile, e cadere con stile come fa Buzz Lightyear. Quindi mi è piaciuto molto che l'hanno fatta volare in questo modo molto naturale, rispetto appunto a un potere stranissimo innato che le altre amazzoni non hanno, non sembrano avere. Spero di avervi un po' contentato in questa curiosità, facendo questa recensione spoilerissima di Wonder Woman, spero di non avervi spoilerato senza che lo volevate, lo metterò sicuramente nel titolo che è una recensione spoiler in anteprima. Se siete curiosi anche voi di vedere Wonder Woman, spero che lo vediate presto anche voi sulle piattaforme streaming o magari appunto uscirà in Italia se non al cinema da qualche parte, spero, non so, Prime Video piuttosto che. Se invece anche voi l'avete visto, volete scrivervi cosa ne pensate di questo film, scrivetelo qua sotto nei commenti così poi ne discutiamo insieme. Io sono molto contento di averne parlato con voi, sono molto contento perché questo è il primo di tre video miei dedicati a delle eroine, per così dire, dei personaggi femminili della DC Comics. Qui ho parlato di Wonder Woman, tra una settimana dovrebbe uscire un video di un fumetto fantastico che ho letto, ringrazio Luca DJ che ce l'ha mostrato sul suo Instagram, e mi riferisco ad Harleen, che parla appunto di Harley Quinn e di come è conosciuto il Joker, e poi sempre di Harley Quinn di un altro fumetto, di Joker Harley, che sto leggendo tuttora, che mi sta piacendo un po' di meno, appunto farò due video separati su due fumetti distinti di Harley Quinn, e poi magari su Instagram farò un attimino il confronto, come faccio di solito. Io come sempre vi ringrazio per essere stati fino adesso con me, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.